È lunedì, è giorno dei nostri sondaggi, come andrebbe se si votasse oggi? Vediamo come già da un anno praticamente la Lega sarebbe la prima forza, perde però lo 0,2%, al 23,3%, riguadagna quello 0,2% il Partito Democratico al 19,8%. Come vedete il Movimento 5 Stelle risupera Fratelli d'Italia a 16,3% più 0,6%, Fratelli d'Italia 15,9% meno 0,4%, Forza Italia perde lo 0,5% al 5,8%, Sinistra Italiana più 0,2% al 4%, poi Azione meno 0,4% 3,6%, Italia Viva più 0,2% al 3,2%, Verdi 2,1% meno 0,1%, più Europa 2,1% più 0,2% E come vedete questa è la situazione con un 38% non si esprime, 3% in meno rispetto a una settimana fa. Vuol dire che c'è una maggiore polarizzazione di cui come avete visto in questa settimana hanno profittato, fruito positivamente le forze di governo, o perlomeno della maggioranza del governo che è andato in crisi.